ciao benvenuto a questa puntata degli approfondimenti oggi vorrei parlarti di un argomento a me caro vorrei parlarti di psicoterapia e consapevolezza e di quale sia il ruolo della consapevolezza all'interno di un percorso di psicoterapia vedi io penso che la psicoterapia sia questo sia un percorso sia un percorso che ci permette di accelerare un processo normalmente quello che accade nella vita è che nasciamo e cresciamo all'interno di sistemi familiari che ci portano a sviluppare tutta una serie di posture nella mente nelle emozioni nel corpo posture che nella maggior parte dei casi non sono pienamente consapevoli perché apprese in una fase della vita dove eravamo talmente piccoli talmente giovani da semplicemente assimilare che ce vanno vivendo esperiente se che ci hanno proprio plasmato ecco che però crescendo queste posture si vanno a scontrare con quelle che sono le situazioni della vita situazioni che cambiano che sono diverse perché cambiano i tempi cambiano cambiano proprio le epoche in cui andiamo a vivere allora ecco che quelle che sono le posture che avevamo acquisito nel passato non sempre vanno bene per quelle che sono le prove che la vita ci invita ad affrontare in quei casi spesso vi è una rottura di è una sofferenza vi è una una presa di coscienza del fatto che vi siano delle parti di noi che non vanno bene sulle quali dobbiamo lavorare che non sono più funzionali per affrontare quelle che sono le situazioni che viviamo nella vita allora ecco che a quel punto ci risvegliamo a noi stessi iniziamo ad acquisire consapevolezza iniziamo a renderci conto di quelle parti di noi che non funzionano a volte per fare questo è proprio necessario un aiuto dall'esterno un aiuto terapeutico e questo quando si parla per esempio di situazioni più estreme quindi con disturbi più strutturati disturbo dipendente di personalità il disturbo borderline di personalità un disturbo narcisistico di personalità disturbi dove il disturbo è dato proprio dal fatto che quella tendenza della mente talmente consolidata da divenire ormai una struttura della personalità della persona arrivando di fatto avere implicazioni profonde in tutti quelli che sono gli ambiti della vita della persona allora in quei casi sicuramente molto utile un lavoro strutturato sistematico che a volte richiede anche molto tempo molto spesso semplicemente abbiamo delle tendenze che così ogni tanto ci portano a deviare dal cammino ci portano a soffrire ci portano a far rivivere situazioni dolori angoscia che in qualche modo ci mettono in difficoltà anche in questi casi può essere utile una una terapia intesa però proprio in questi termini come un percorso di accelerazione come un percorso dove grazie al confronto con l'altro io posso divenire consapevole maggiormente di quelli che sono i processi che abitano la mia mente che abita nel mio corpo che quindi mi mi portano a vivere ea rivivere costantemente sempre le stesse emozioni sempre gli stessi vissuti grazie alla relazione terapeutica grazie a quello che viene costruito all'interno della terapia è possibile andare a a crescere sempre più la nostra consapevolezza perché per esempio in terapia a mio avviso è così utile utilizzare strumenti come la meditazione la mindfulness in particolare perché la mindfulness è anch'esso un acceleratore all'interno della te per della terapia che già di per sé accelera i processi la mindfulness va ad accelerare ancora di più perché porta la persona a divenire sempre più consapevole in maniera strutturata e sistematica di quelli che sono i propri processi interni sempre più sempre più intensamente quindi vi è il confronto con l'altro ma vi è anche la possibilità e soprattutto la responsabilità di lavorare su se stessi imparando ad ascoltarsi imparando ad essere presenti altri strumenti come per esempio l'ipnosi nelle sue tantissime forme e anche su questo realizzato diversi video che puoi andare a vedere e come anche chiaramente dalla mindfulness è molto utile perché aiuta la persona a divenire consapevole di ciò che accade dentro di sé in maniera molto più facile chiaramente l'ipnosi usata in un ambito clinico non ha nulla a che fare con l'ipnosi che possiamo vedere in televisione quella dove cade completamente per terra in seguito all'induzione dell'ipnotista ecco questo non ha nulla a che fare con la clinica con la psicoterapia l'ipnosi usata in un ambito clinico un'ipnosi che porta alla consapevolezza dove la persona è sempre cosciente di ciò che accade almeno nel mio modello di terapia ma che semplicemente riesce sempre più a divenire consapevole di ciò che accade dentro di sé quindi l'ipnosi usata per andare a ricordare oppure metaforica per andare a promuovere dentro di sé certe istanze certe visioni il lavoro però ecco come ti dicevo è proprio finalizzato di fatto ad accrescere la consapevolezza accrescere la consapevolezza rispetto a noi stessi a come funzioniamo a quei modelli che abbiamo appreso ma anche rispetto a quello che è il nostro potenziale rispetto a quelle che sono le possibilità rispetto a quelle che sono le spinte interne della nostra stessa anima che ci guidano in una certa direzione nella vita per questo ecco la consapevolezza parlando di psicoterapia è un elemento fondamentale l'elemento che non può mancare un elemento che davvero va a caratterizzare tutto il percorso per cui ecco mi auguro che questi queste suggestioni queste condivisioni queste riflessioni possano esserti di aiuto qualora tu abbia scelto sia percorrendo un percorso di terapia o comunque di consapevolezza nella tua vita per qualsiasi ulteriore approfondimento ti invito a navigare nel sito www.ericogamba.org a presto e e e e e e e